siamo fortunatissime per riprendere secondo me il corso preparto perché anzi corso di accompagnamento alla nascita perché ci fa piacere poter condividere insomma con con le donne il nostro sapere e il nostro stare accanto ok perché l'ostetrica e questo soprattutto quindi ci mancava dopo questo periodo lunghissimo di due anni stare proprio vicino alla donna e poter parlare insomma tu per tu ok quindi anche togliere i piccoli dubbi le piccole domande che possono sembrare scontate però per loro non lo sono quindi rispondere ecco in cerchio così diciamo e fare gruppo